Could you give a challenge to the Western Church, the Western World, and then anything else that's burning in your heart? Ok, ok. Sono entusiasta quando vedo la fede di alcuni dei giovani oggi che dicono io, Dio, andrò ovunque tu vuoi, farò qualunque cosa. Non c'era molto di questo quando io sono cresciuto, ma quello che succede con quelli che avevano questa fiamma, questo entusiasmo, ho visto come la Chiesa li ha schiacciati. E prego per la prossima generazione, per i giovani che dicono io andrò ovunque, farò qualunque cosa, e lo fanno, vanno all'estero o dove sono, nella città, nel quartiere, dovunque. E dico, voglio essere radicale, voglio seguire Gesù completamente, voglio tutto, non mi interessano i giochi, non mi interessa quello che mi intrattiene anche nella Chiesa, voglio seguire Gesù e sperimentarlo. E la mia sfida alla Chiesa è per quelli che hanno la mia età, quelli che sono già andati avanti. Vuoi dare l'esempio per i giovani? Perché quello che succede, è successo nella mia generazione quando eravamo giovani, c'erano quelli che erano radicali, ma una volta che si sposavano tutto cambiava, quando avevano bambini tutto cambiava. E io prego, Signore, posso essere un esempio, qualcuno che è sposato e ha figli e continua a pensare al regno prima di tutto, prima Corinzi 7, tutti quelli che sono sposati vivono come se non lo fossero. C'è questo senso che la missione è più grande e possiamo prendere dei rischi e possiamo arrendere la nostra vita e dire, sai, io, mia moglie, la mia famiglia, vogliamo dimostrare a loro cosa è seguire Gesù. Certo, c'è un po' di pericolo, ma certo non è quello che è muoversi in maniera logica, razionale, ma voglio andare in quella via così i miei figli possono sperimentare cosa significa vivere per fede, ma non solo quello, voglio essere un esempio per i giovani. Guarda, la tua missione con il Signore non finisce quando tu sei sposato o quando è il primo anno di matrimonio, tu ti vuoi focalizzare uno nell'altro, hai figli, poi prendi tempo per quel piccolo bambino e poi quando andranno a scuola sarai libero, ma poi quando sono a scuola o sono teenager e allora vuoi raccoglierli, tenerli stretti e tu gli insegni questa mentalità che non è andare fuori ad essere un operaio nella raccolta, ma devi proteggere la tua famiglia, vuoi trovarti in una comunità dove ti senti sicuro, dentro la tua casa, lontano dalle persone cattive, ma non ci sono scuse per questo, questo non è quello che troviamo nella Bibbia, noi dobbiamo vivere per lui, allora manchiamo non solo la nostra vita ma anche i figli, mancano in questo quando noi non gli diamo un buon esempio e loro si allontanano quando hanno 18 anni dalla Chiesa perché non vedono l'avventura, non vedono quella posizione dove la famiglia ha bisogno di Dio, bisogno che Dio intervenga e loro dicono, oh non voglio abbandonare quel Dio, tu invece crei quella bolla per te stesso, ma come fa Dio a operare in quello? Non so, non voglio essere negativo, non voglio sembrare negativo, ma sono triste perché non solo manchi la tua stessa vita, ma allontaniamo i nostri figli e i giovani e moltitudini perché non vedono l'avventura della scrittura nella nostra vita e non sperimentano lo Spirito Santo e loro possono vedere questa versione cristiana del sogno americano dove troviamo solo scuse per proteggere la nostra famiglia ma non mettiamo prima Cristo e la missione.